Grazie Presidente, sarò sintetico. Vorrei rispondere a fornire alcune conferme e alcuni chiarimenti a quanto emerso durante la discussione generale. In primo luogo, confermare naturalmente la volontà di realizzare l'impianto sportivo, e mi riferisco quindi all'intervento del Consigliere Corsetti, ed anzi anticipo la disponibilità a lavorare in commissione, già dalla prima data libera, per riprendere i lavori che sono stati già avviati con le commissioni, come avevo accennato durante l'illustrazione, sport capitolina e municipale. Per quanto riguarda il tema dei due allegati, dell'allegato B e dell'allegato C, ovvero gli impianti che tecnicamente sono classificabili come tipo B, in questo momento non è stato possibile inserirlo, in quanto mancano le caratteristiche fisiche per farlo. Quindi i criteri che sono stabiliti dall'articolo 4 della delibera 11 del 2018 prevedono la presenza di determinate strutture che in questo momento non sono presenti, ed è questo il motivo per cui nel delibera non è stato esplicitato il passaggio da C a B. diciamo così, però ovviamente è quello che ci impegniamo tutti a fare quanto prima, a realizzare quanto prima. E quindi per quanto riguarda poi infine una considerazione sulla presunta confusione che c'è stata in questi mesi, in questi anni, in realtà a me non sembra affatto che ci sia stata confusione, anzi abbiamo sempre dimostrato nei fatti poi che quello che abbiamo detto appunto durante le commissioni, durante questi quattro anni e mezzo di gestione di campo testaccio, poi l'abbiamo realizzato. Quindi siamo partiti da un'area che era nelle competenze del Dipartimento Mobilità, in quanto era un parcheggio, l'abbiamo espunta dal parcheggio e l'abbiamo riportata allo sport, abbiamo effettuato la bonifica, abbiamo ricoperto la buca, perché a un certo punto era rimasta un'area finalmente bonificata, ma con una buca. Abbiamo ricoperto la buca e adesso siamo pronti finalmente per l'ultimo passaggio. Quindi siamo andati mano a mano avanti per recuperare quell'area. E senza fare annunci, questo sì, forse la confusione c'è stata nel momento in cui la Regione Lazio ha annunciato di essere pronti a cambiare, a dare il nome al campo, ricordo che è stato detto Campo Testaccio si chiamerà Campo di Noviola e quant'altro, quando poi abbiamo scoperto mesi dopo che in realtà un progetto ancora deve essere elaborato, deve essere approvato, deve passare appunto in conferenze di servizi. Bisogna ancora lavorare molto, ma questo non ci ha mai spaventato, è quello che abbiamo fatto silenziosamente in quattro anni, ottenendo dei risultati concreti e ora vogliamo andare avanti. Quindi questo sì, però che non si parli di confusione, perché di fatto confusione non c'è mai stata, anzi il percorso è stato assolutamente lineare e ogni cambiamento è stato un cambiamento positivo. Quindi prima rimettere in sicurezza, poi pulire e poi predisporre l'area per poter finalmente realizzare l'impianto sportivo. Manca quest'ultimo passaggio ed è nostra intenzione lavorare insieme al municipio per completarlo. Grazie.